Siamo qui Siamo qui Non ho visto cosa facesse Siamo qui Siamo qui Non ho visto cosa facesse Siamo qui ad Asti Siamo qui ad Asti perché la scorsa volta eravamo alla Notte Bianca di Alba Ma oggi c'è la Notte Bianca? Di Asti Oh yeah, c'è un sacco di gente in realtà Qui siamo in un posto un po' spersi, un po' fuori Però fidatevi ce n'è Magari dopo un giro ce lo facciamo Ma lì davvero c'è troppa gente e troppo casino C'è un sacco di musica e di gente che canta male il karaoke Soprattutto Tipo Marco se n'è andato non ritornerà I primi siamo noi Lei è Janet Ma tanto l'avete già conosciuta la scorsa volta Eh beh sì, come anche io sono fiorella Sono fiorella E qua dicevamo c'era troppa gente e troppo casino Quindi non si riusciva a parlare Ci abbiamo provato Se riesce Ora siamo in piazza cattedrale dove fanno musica live Si sembra Ed è fighissimo Fai venire Fai venire Ritorno via Ora siamo in piazza Giù E' un po' nella spiega. Io sono sempre la coltivinata. Qui qualcuno gradisce. E' bellissimo in questo posto. Sono ubriaca e non è vero. Non è ancora bevuto. No, comunque qui è bellissimo. E' un posto molto dolce, molto romantico, con tutti questi fiori. Sì, molto romantico, molto... Che l'hai po' hollandesi? Molto buono! E' tanta roba! Avete visto? Abbiamo anche la discoteca qui adassi. Per capire un attimo, le maglie al cielo di tutti, single presenti, grazie, giustamente vogliamo capire. Perché questa canzone, a far l'amore, ci vai tu. Abbiamo fatto un salto anche da Tally Whale, perché Fiorella voleva fare un salto da Tally Whale. Eh beh, sì, è osso. Perché fino a l'una, quanto è che ha aperto i negozi fino a l'una? Sì, fino a l'una. Fino a l'una sono aperti i negozi, quindi anche qua. E ci sono questi divanetti che sono di una comodità. Mentre Fiorella andava a farsi i giri, io e Janet, siamo rimasti qua. Sono rosa, sono anche delle scarpe rosa, ci sono anche delle fiorelle rosa. No, veramente sono rossa. In realtà è rossa, sì. Così ci troviamo al momento quasi dei saluti, perché Fiorella sta per andare. Eh sì. Ma in realtà forse faremo ancora prima un salto, tipo a vedere una discoteca al loft, per vedere se è veramente una discoteca o se è un ciccato di brutto, in realtà è semplicemente un locale che mette musica. Questo è il posto che pensavamo fosse il loft, e che scopriremo tra poco se veramente è quello. Esatto! Ma forse è, tipo, c'è tanta musica? Ok, pacchissimo, ho detto una cazzata. In realtà è semplicemente il locale. Oh, grazie! Bastani! Buonenni! Buonenne! Buonenne che viственный. Buonenne! Allora! Buonenne! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.